Il Premier Conte ha dimostrato di essere davvero un essere spreggevole, un falso, un attore, un ipocrita perché ha giocato sui numeri, ha fatto vedere che sta mettendo a disposizione degli italiani delle cifre che in genere sono state sempre messe a disposizione. Mi riferisco all'anticipazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Cosa vi aspettavate da una persona che ormai si diverte a fare gli show in televisione, show ovviamente in televisione e sul web, preparati questi show da quel Gieffino, da quel tale Rocco del Grande Fratello, ma lasciamo perdere. Vi parlo di cifre, di numeri che non possono essere confutati. Conte dice che ha messo a disposizione 4 miliardi e 300 milioni di euro e in più 400 milioni di euro per i comuni per fronteggiare questa emergenza coronavirus. Ecco la prima falsità enorme, grande quanto un grattacielo. Quei 4 miliardi e 300 milioni altro non sono se non l'anticipazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Di quel fondo che viene messo a disposizione annualmente di alcuni comuni e che nella fattispecie al massimo è stato anticipato di due mesi. Quindi non si tratta di nulla di aggiuntivo, ma di qualcosa che già c'è, che già esiste, che annualmente viene messo a disposizione. Ho detto di alcuni comuni perché in questo fondo ci sono i comuni che versano e i comuni che ricevono. I comuni che versano sono quei comuni rivieraschi che si affacciano sul mare, che vengono considerati comuni ricchi, i quali possono versare in questo fondo. Ma al di là di questo è importante fissare il concetto che questi 4 miliardi e 300 milioni di euro altro non sono se non una cifra, una somma che già esisteva, esiste ed esisterà. A prescindere che non c'entra niente l'emergenza del coronavirus. Però ovviamente a Conte piace dire che ho stanziato 4 miliardi e 300 milioni, giocando ovviamente sulla ignoranza in materia del popolo, perché poi il popolo sente queste cifre e sogna, si eccita. Poi ci sono i 400 milioni di euro che vanno divisi, vanno ripartiti tra i vari comuni. E cosa ha fatto Conte? Come Ponzio Pilato si è lavato le mani e ha lasciato, ha affidato tutto alle amministrazioni comunali. La patata bollente è ora in mano ai sindaci, agli uffici dei servizi sociali, agli assessori ai servizi sociali. La gente si illusa, la gente ha pensato, dice ora chissà quanti soldi avrà l'amministrazione comunale di Taranto, Cannicattia o qualsiasi altro comune d'Italia. Quando invece il piatto è molto ma molto povero, si tratterà di dare 300 euro, così più o meno, qualcosa come buono spesa. Quindi questa somma non è una somma che viene data al cittadino e il Conte dice questi sono 300 euro, ecco spendeteli. No, sono solo dei buoni da spendere appunto per fare la spesa, per capirci, non per esempio per pagare i fitti. E qui quindi l'essere codardo da parte di Conte di non essersi assunto come stato la responsabilità, ma aver lasciato la patata bollente ai sindaci. E vedrete purtroppo quanti sindaci, quanti amministratori locali verranno aggrediti anche fisicamente dai cittadini esasperati, i quali pensano di avere a disposizione chissà quale somma, pensano che lo Stato davvero abbia stanziato 4 miliardi e 300 milioni, più altre 400 milioni, poi si sentiranno dire no, poi si sentiranno dire al massimo ti sto dando 300 euro, una tantum per fare, ma solo per fare la spesa, quindi vincolato a quella destinazione e vedrete i cittadini come esploderanno, quanti sindaci purtroppo non per colpa loro verranno aggrediti perché Conte ha creato, ha ingenerato false speranze. Il vero problema caro attore Pagliaccio Conte, clown Conte, deriva dal fatto che tu non hai aggredito ora la disperazione economica, per esempio delle partite IVA, soprattutto delle partite IVA. Tu hai dato alle partite IVA, e bisognerà vedere poi se tutte le avranno e quando le avranno? 600 euro. E cosa fa una partita IVA? Cosa fanno queste attività commerciali? Ecco, la profumeria, il bar chiuso, cosa fanno? Con 600 euro potranno mangiare? E il fitto e le varie spese dove vanno a finire? E i dipendenti buttati in mezzo a una strada? Certo, riceveranno la cassa integrazione, ma per quanto? Non hai aggredito, caro Pagliaccio Conte, non hai aggredito il problema nella sua virulenza. Cioè dovevi creare davvero i presupposti per dare ossigeno, per dare fiato, per dare sostentamento all'imprenditoria. Ma non puoi andare da un imprenditore, da una partita IVA e dire questi sono 600 euro, beh, significa che mangi per tutto il mese. E tutto il resto delle spese che un imprenditore ha, dove sono andati a finire. Vedete questi locali? Molte di queste attività sicuramente non hanno un locale che è di loro proprietà e quindi necessariamente pagano il fitto. E quando mediamente io pago 400-500 euro di fitto al mese, io cosa faccio con queste 600 euro che tu ipocrita Pagliaccio Conte mi stai dando? Questa è la realtà, questa è la verità. Ecco perché il vero problema, il vero bubbone non è stato affrontato. Però è bello sciacquarsi la bocca con le cifre, ripeto, le ripeto, con i 4 miliardi e 300 milioni che non sono per il coronavirus, ma altro non sono se non l'anticipazione del fondo di solidarietà comunale. Quel fondo che per esempio, per esempio, eroga i servizi sociali agli anziani, che per esempio eroga i servizi sociali diversamente abili, quel fondo che serve a pagare gli stipendi ai dipendenti comunali. Non per l'emergenza coronavirus. La gente purtroppo ha abboccato, ci ha creduto, ma come si suol dire bisogna battere la testa contro il muro per capire che è duro. E quando vedrete che molti si ritroveranno quei pochi fortunati, si ritroveranno quei famosi 300 euro, vedranno che quei 300 euro servono solo per fare la spesa e non per altro. E non tutti li avranno e incominceranno a inveire contro i sindaci, incominceranno a prendere a botte i sindaci. Questa è la realtà. Che poveretti non hanno alcuna colpa, non sono assolutamente responsabili. Hanno avuto solo la sventura di avere un premier vigliacco che non si è assunto le responsabilità, non ha detto lo Stato deve pagare questa gente, ma ha demandato ai sindaci. E poi i sindaci purtroppo verranno etichettati come ladroni, come coloro i quali hanno avuto a disposizione una cifra enorme e non la mettono a disposizione dei cittadini. Questo è Conte. Un premier, un Ponzio Pilato, falso, ipocrita e criminale. Criminale perché? Ma questa è una mia consiglia, un'aggiunta al momento, perché tiene in piedi l'Ilva di Taranto. Non ha chiuso l'Ilva. Ha chiuso tutte le altre fabbriche, comprese le case automobilistiche, ma non l'Ilva. Ecco perché è un criminale. Ma questa è tutta un'altra storia. Parlo da Tarantino.